aiaiaiaiaiai sono senza gomma aiuto arriva 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 adesso è fermo anche lui sicuro un ramo lì hai visto quello spaccato in mezzo? ma va ma si è fermato spanti prova a vedere che cacchio è una tasca in mezzo ma qua sopra? si con la mezzana ancora le ho diciata io pronti? no ma siamo in giro siamo ancora per le valli quindi non so come arriviamo e se arriviamo va bene ci aggiorniamo più tardi allora Lele sentiamo poi oggi ciao Belfieu ciao 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 una volta che arrivo su io sono scappato via lì ora da fare un video per il chico Engie fatto perché pensi che è spenta ascoltami non venire caccialo dentro in alto e poi va giù in basso se no non ci si sta questa qua mezzana devi metterlo in su e poi scende giù bravo se no il gasto è mia pare che due due oh oh 25 mila euro e non vengono su da una salita 25 mila euro beh che lui ha fatto un bel numero eh chiaro e però però è andato con due ostacoli è andato è andato giù è andato giù di prepotenza di trazione ma 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 ok però bastare dovete dimmelo che ci sono giù vai giù vai giù piano di lì vent'è radagi vengo giù vengo giù